E di clima buongiorno? Ogni giorno progettiamo insieme a te per rispettare i requisiti più difficili. Diamo spazio alla tua fantasia quando scegli forme originali e calcoli geometrie che sembrano impossibili. Difendiamo insieme la sostenibilità e la sicurezza. E condividiamo lo stupore per i risultati che raggiungi. Grazie a tutti.